Ciao a tutti! Oggi prepareremo le cipolle caramellate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolle di tropea tagliate a fette non troppo sottili, olio evo, zucchero di canna, aceto balsamico, aceto di mele e sale. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le cipolle, lo zucchero di canna, l'olio, il sale, l'aceto balsamico e l'aceto di mele. Ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per 40 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Le cipolle sono cotte, lasciare intiepidire, impiattare e servire. Cipolle caramellate si conservano in frigo in barattoli di vetro per un mese. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!